Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi un video haul di acquisti che ho effettuato nell'ultimo periodo e di cose che ho acquistato e che penso che possa essere carino mostrare. Allora sono stata da Wicon, da Wicon c'è un'offerta che praticamente con 5 euro si possono acquistare tre matite e io ho voluto acquistare questa qui che si chiama Viola Gotico, questa qui che è un colore veramente molto molto bello. Bellissima, ecco forse così si vede, che è un Viola veramente particolare. Poi ho voluto prendere due matite labbra, una lampone, questa qui, e poi ho voluto prendere questa qui che invece è Viola Rosato. e poi non era in offerta però il colore mi è piaciuto moltissimo, questo qui è uno dei Liquid Lipstick nella colorazione Cremisi. Questi sono rossetti che hanno una lunghissima durata. Questo è il colore, veramente molto bello. Una volta che si asciugano sono opachi e durano veramente tantissimo. E questi sono stati gli acquisti che ho effettuato da Wicon. Poi sono stata alla MAC e da MAC ho preso il fondotinta al Pro Longwear. Dunque io dovevo andare ad una cerimonia, mi serviva un fondotinta che non fosse troppo pesante, anche perché incomincia a far caldo, ma che mi garantisse una certa durata. E devo dire che questo mi ha veramente molto stupito. Ho avuto problemi inizialmente per l'applicazione, perché non riuscivo a trovare un modo adeguato su come utilizzarlo. L'ho applicato con le mani e non è che mi piacesse più di tanto. Con il pennello anche lì non mi trovavo benissimo, ma secondo me il meglio di sé questo fondotinta lo dà con la spugnetta. Io ho la Beauty Blender e con quella devo dire che ha un'ottima, veramente un'ottima, da un'ottima performance. E io l'ho applicato verso le due del pomeriggio e l'ho struccato alle tre di notte e il trucco era pressoché perfetto. E devo dire che la fama che ha questo fondotinta è veramente, veramente meritata. Io ce l'ho nella colorazione NC20, questa qui. E mi piace veramente, veramente moltissimo. E non solo mi è durato perfettamente, non si è lucidato. Io ho messo giusto un po' di cipria giusto sul naso dove mi lucido solitamente. E devo dire che mi ha veramente molto, molto stupito. E poi della stessa linea ho preso il Prolonger Concel, vabbè il correttore insomma, e nella colorazione NV25. E anche questo correttore mi è piaciuto veramente tantissimo. L'ho applicato nel contorno occhi e anche questo non solo mi si è rimasto esattamente dove l'avevo messo, non mi è andato nelle pieghette. E veramente un correttore eccezionale. E anche questo mi è piaciuto tantissimo. E anche di questo all'inizio è stato un po', non è stato facilissimo capire come utilizzarlo, ne va utilizzato veramente molto poco. E questo applicatore invece tende a uscirne un po' troppo. Però, e questo secondo me il modo migliore per applicarlo è con le dita. E anche questo non ha bisogno di niente, insomma. È veramente un ottimo, ottimo correttore. Anche questo merita la fama che ha. Poi con il 20% da Sephora ho voluto prendere questa qui, che è la nuova palette di Chanel. Quella che è uscita con la collezione estiva, che è veramente magnifica. Questi sono i colori e questa l'ho usata quando sono andata a questa cerimonia. E mi è piaciuta veramente, veramente moltissimo. Vediamo se riesco a mostrare i colori. E quindi, ecco, molto molto bella, molto setosa. È veramente una signora palette. Ecco, magnifica, veramente magnifica. E mi hanno fatto, ho ricevuto veramente tantissimi complimenti per questo make-up. Poi, sempre di questa linea estiva, ho preso anche questo smalto, che però non ho utilizzato poi per la cerimonia. Ho preso questa colorazione qui, che si chiama Emerald. Inizialmente l'avevo preso per la cerimonia, poi però ho preferito mettere uno smalto più neutro. E questo è lo swatch dello smalto. E ho fatto anche gli swatch in negozio di questi altri. Sempre degli smalti usciti con la collezione estiva di Chanel. Però diciamo che quello che mi ha colpito maggiormente è stato proprio Emerald. Questi altri, alla fine, non mi hanno colpito più di tanto. E poi sono stata da Bottega Verde. E da Bottega Verde, onestamente ci sono andata perché mi è arrivata una cartolina per poter prendere con una spesa di 10 euro questo orologio. Che mi piace veramente tantissimo. È abbastanza grande come orologio. Però, secondo me, è veramente molto molto carino. E diciamo che l'acquisto che ho fatto, l'ho fatto soprattutto per prendere l'orologio. E da Bottega Verde ho preso questo prodotto qui per capelli. Che è una novità, è appena uscito. Praticamente, se non ho capito male, è un siero con latte di cocco ed estratto di lime. Che praticamente rende i capelli mossi. E dunque, qui c'è scritto... In italiano non c'è scritto. Eccolo qui. Allora, un prodotto professionale che in un solo gesto sublima la chioma regalando meravigliosi capelli mossi e un effetto mare. Speciale formula con latte di cocco ed estratto di lime vanta un innovativo effetto memoria che ripristina il mosso naturale dei capelli sublimandone la luminosità e definendo le onde. Modo d'uso. Applicare il siero sui capelli ancora umidi dopo averli tramponati facendo attenzione a distenderlo su tutta la lunghezza. Procedere all'asciugatore utilizzando preferibilmente il phon con diffusore per ravvivare le onde e applicare direttamente sui capelli asciutti e medellare le ciocche con le dita per una quindicina di secondi. Evitare di pettinare i capelli per non disfare le onde e i buccoli. Insomma, proviamo a vedere com'è. Si presenta in questa maniera qui. E vediamo com'è. Poi ho voluto prendere questo qui che è un gloss nella colorazione Baci della Riviera e la colorazione non c'è scritto non la trovo la colorazione comunque è questo colore qui eccolo qua che per l'estate mi sembra molto molto carino e fa anche un buon profumo ha un ottimo profumo ecco qui e poi mi hanno dato come campioncini allora una crema idratante per i piedi questo campioncino qui e poi questo che è una crema per il corpo alla menta ecco qua e insomma questi sono stati i miei ultimi acquisti e spero insomma di avere mostrato tutto quanto bene e grazie per aver visto il video e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti